Sono molto lieto della nuova iniziativa annunciata dal segretario Hillary Clinton, volta a ricordare tutti i nostri partner nel mondo. Il segretario ha infatti denominato questa settimana la Global Partnership Week, la settimana del partenariato globale. A nome della missione diplomatica degli Stati Uniti in Italia, desidero quindi porgere un speciale ringraziamento a tutti i nostri partner. In effetti, non saremmo in grado di incontrare e dialogare con così tanti italiani, né di realizzare con successo i nostri programmi senza la collaborazione dei nostri partner. Abbiamo la fortuna di lavorare con numerosi partner pubblici e privati, dalla Università che ospita i nostri relatori e i borsisti Fulbright, ai centros studi e all'organizzazione non-profit che collaborano con noi su questioni importanti per le relazioni bilaterali, alle aziende in cui sostegno ci costente di organizzare eventi come il 4 luglio e la notte dell'elezione e di perseguire obiettivi importanti come quelli di Digital Economy Forum. Ed è proprio il Digital Economy Forum a rappresentare un formidabile esempio di collaborazione fra l'Ambasciata, aziende ed università italiane e americane, che in partnership hanno lavorato su un tema importante per la crescita economica, tanto nel mio Paese quanto in Italia. La nascita e la crescita di imprese tecnologiche, le start-up. Ed è per tutti questi motivi che in occasione della settimana di partenariato globale desidero ringraziare personalmente ciascuno di voi, augurandomi che la nostra collaborazione possa continuare negli anni a beneficio dei nostri due Paesi. Grazie. 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 Grazie.